Ciao a tutti ragazzi, sono Fuoco e oggi siamo di nuovo su Do My Non So Che Cosa, so più intruirlo in italiano, con me c'è Lollo, Market Rosten Ok, io agosto, alla facciaccia vostra, ok, andrò a prendere questa Ok, e poi per mia sfortuna, affonderò, e che conta cattiveria, quindi che vado a fare un Viaggia, no? Scrivi! Ma perché lo dici nello scrivi? È un luogo della Svizzera, è una città svizzera Belli in zona, facciamo, dai, per compassione, per compassione facciamo la bandiera svizzera Sì E, speramente Viz, vuz, vuz, vanz Qui c'è una vocale, questa è una vocale Ok, quella è va, va, e va, eh, va, vuz, vanz Ah, no, questa è una S, questa è una S Ah, vanz Dai, tu dimmi che cazzo è vanzo, dai Lontia dal culo Ok, racconta, vai Questo? Sì Ah, queste, tipo È un zecchio però se vi dico brava lei li sa disegnare lei li sa disegnare senti non ho la tavoletta grafica ho capito fa benissimo una persona allora stava insieme ad un'altra quello che poi si lasciano ti dice che poi lui uomo è ancora nudo no ha un di fiamma colpo cazzo ha un di fiamma lo vedi lei l'ha indovinato subito ok gli si ferma dalla macchina perchè ha bucato ok questa è data e fa oh mio dio sono da solo come faccio arriva Marco e fa ok ti aiuto e poi arriva anche Levi e fa ok ti aiuto e tutti te menano a Daniel lui due che abbiamo fatto hanno abbiamo abbiamo menato diciamo in italiano dai con il piccolo ci sta e che vuol dire che un italiano avete aiutato a lui quindi avete che che la seconda già ce l'avete dai operato si simile sinonimo non è così eccolo non è così è impurale cos'è 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 non capisco bravo dove marche si è sempre di Dada si ok è sempre di Dada ok ok Dada poi va e va da Ale ok c'è Dada va sopra ok c'è un carrammato Dada si c'è un carrammato quando Dada la colina me la ricordavo più piccola le down eh bravo sei oh sei una disegnata non è possibile non è buon po la domanda la macchina la tavolata questa grafica arrivo senza la colletta sta che vuole vai Marco non ci vuole tanto ma che gli da uno schiavo allora praticamente questo qua è uno scheletro no? e qua che parte del corpo ha? non so disegnarlo però avete capito è il bacino no dai si 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 voglio più si bravo che parte del corpo è l'arco non so io cosa c'è lì dai è il momento sexy è il momento sexy si ma va fanculo oh lo stai imbattuto vabbè io vi ringrazio tua edizione ringrazio a Truster Mac e Lady e Lollo mi raccomando c'è il link in descrizione di Truster nel suo canale quindi andata a guardare stop anche il mio stop come no io vorrei fare solo una prestazione quella di prima ho visto il fiore è il buono verso lui è la seguita lui è la cancellata perché no e non ti farei mettere allora guarda che non ti metto il link sotto al canale ragazzi alla prossima Ciao a tutti